Salve! Salve Martin, sono François. Ti interessa ancora mollare il tuo lavoro d'archivio e passare a qualcos'altro? Beh, sai cosa ne penso di tutte quelle vecchie carte? Cosa ne diresti di lasciare l'archivio per un po'? Cosa c'è in ballo? Un altro noioso viaggio in Inghilterra alla ricerca di qualche vecchio libro? Non questa volta. Vediamo. Una miniera tedesca del 1945, verso la fine della guerra, appena scoperta. Dici sul serio? Dove? Bohemia occidentale. E quando partiamo? Purtroppo io non ho più l'età per queste cose. Dovrai andare da solo. Ti dirò di più quando arriverai qui. Oggi pomeriggio, sei libero? Affare fatto. Bene. Vieni appena possibile. Conto su di te, Martin. Lo zio è stato un po' misterioso, ma ha stuzzicato la mia curiosità. Una nuova miniera tedesca è una scoperta che non si fa tutti i giorni. Ma perché tutta questa fretta? Sono quasi le cinque. È ora di scoprire qualcosa di più. Sono contento che tu non abbia tardato. Le cose sono precipitate. Ti ascolto. Solo poche persone sanno quello che sto per dirti. E deve restare così. Hai mai sentito parlare del progetto Nibiru che i tedeschi hanno avviato durante la guerra? Nibiru? Il dodicesimo pianeta? Cosa ha a che fare con i tedeschi? Sì, il dodicesimo pianeta. I tedeschi avrebbero dato qualsiasi cosa per una tecnologia che li aiutasse a uscire dalla situazione in cui si trovavano. Immagina cosa avrebbe significato per loro la tecnologia di una razza molto evoluta. Ma il dodicesimo pianeta è solo un mito. E sei sicuro? Nemmeno io ci credevo. Ma ora non ha importanza. Ciò che conta è che ci credessero i tedeschi. Ma soprattutto nel corso della mia vita ho raccolto molti dati. E credo non fossero distanti dal loro obiettivo. Non so bene a che punto fossero né cosa avessero scoperto esattamente. Ma sono certo che Nibiru non sia solo un mito. Ah sì? Continua. Ora non ho il tempo di parlarti di tutte le mie scoperte. Ma Nibiru esiste. Ne sono certo. Ora però mettiamoci al lavoro. L'informazione sulla scoperta arriva da un mio contatto a Praga. È già tutto organizzato. Tu andrai a Praga e la incontrerai sul Ponte Carlo. Cosa? Questa sera incontrarla? Il tuo contatto è una donna. Esatto. Dobbiamo agire in fretta. Il permesso per accedere al sito della scoperta e tutte le informazioni disponibili ti saranno forniti sul posto. Quanta fretta. E comunque cosa ti aspetti che trovi? Non lo so. Verso la fine della guerra i tedeschi stavano nascondendo tutte le cose di valore perché gli alleati non se ne impadronissero. I risultati della loro ricerca archeologica non sono mai stati scoperti e non abbiamo indizi su dove cercarli. Ma alla fine di aprile del 1945 la Bohemia era di fatto l'unico territorio ancora controllato dalla Germania. Come riconoscerò quella donna? Il Ponte Carlo di Giorno è molto affollato ma tu arriverai di sera tardi quando è quasi deserto e lei ha già una tua fotografia. È tutto organizzato. Lei si chiama Barbara. Il biglietto aereo è nella busta di fronte a te. Martin, questo potrebbe essere un grande... Va bene. Ti chiamerò dopo essere arrivato all'appuntamento. Buona fortuna. Ho lasciato la villa con poche informazioni in più rispetto a prima. Mio zio però sembra sperare molto in tutta questa faccenda. Andrò quindi a cercare le risposte nel cuore dell'Europa. Sono arrivato a Praga di sera tardi. Un taxi mi ha portato in centro e il Ponte Carlo era dietro l'angolo. Sono un po' in ritardo ma spero che Barbara abbia avuto pazienza e mi stia ancora aspettando. Barbara non è qui. Forse sono arrivato troppo tardi. Un turista. Sembra godersi lo scenario notturno. Buonasera signore. Cosa ne direbbe di un bel ritratto? No, grazie. Vorrei solo farle qualche domanda. Va bene. Aspetti solo che abbia finito questo quadro. Non c'è problema. Aspetterò. Sul cavalletto è appoggiato un disegno a pastello non ancora finito. Un bel lavoro. Statua di San Tommaso. La statua è stata restaurata nel 1957. Il piedistauro è un massiccio blocco di pietra. Una splendida serata, vero signore? Sì, proprio splendida. Allora, le interessa la mia umile bancarella di opere d'arte? Guardi questi magnifici dipinti di pietra. Temo che mi interessi qualcosa altro. Vede, sto cercando una donna. L'amore che l'ha portata qui, eh? No, non è così. Ma è un appuntamento importante. Ha scelto un ottimo posto a questo scopo, signore. E anche il clima tiepido di questa sera è perfetto. Non è come pensa. Dobbiamo solo vederci qui. In effetti non ci conosciamo neppure. Un peccato, però. A quanto pare, però, sono arrivato in ritardo. Lei deve essersene già andata. E avrebbe dovuto essere proprio qui alla statua. Per caso non l'ha notata? Ha ragione. Ho intravisto una donna. Naturalmente non era il genere di donne che girano da queste parti a quest'ora. È rimasta lì per quasi un'ora. Si guardava un giro in un'aria ansiosa. Avrei dovuto incontrarla questa sera. Può dirmi qualcosa di più? Forse. Il problema è che sono stato distratto da un uomo che è arrivato qui poco prima della donna. Un uomo? Un turista. O forse soltanto uno che faceva una passeggiata. Non sono sicuro. Non sono un poliziotto. Ma se non le dispiace, ora vorrei continuare a dipingere. Vorrei parlare ancora di quella donna. È importante. Oh, va bene. Le dirò qualcos'altro, ma poi mi lascerà lavorare. D'accordo? Mi ha già portato via molto tempo. D'accordo. Pochi minuti prima che arrivasse la donna, è venuto alla mia bancarella un uomo che voleva un ritratto. Che strana persona. Prima che potessi finire il ritratto, se ne è andato senza pagare. Che insensibilità all'arte. Senta, anche io ho poco tempo. Se le rimborso quello che ha perso per quel ritratto, mi dirà quello che voglio sapere. Ne sarò in mezzo. Le regalerò anche il ritratto. 500 corone e l'affare è fatto. Sono parecchi soldi, non le pare? È un buon prezzo. Se il ritratto fosse stato finito, le sarebbe costato un migliaio di cose. Va bene, affare fatto. Mi dia il ritratto e mi dica quello che sa. Molto bene. Lei è rimasta lì un po' di tempo. Sembrava sempre più ansioso. Poi si è appoggiata alla statua di Sant'Omaso. Ho visto che stava scrivendo qualcosa con tutta fretta. Ma prima che tornassi a voltarmi, si era già andato. Vabbè, così non è che sappia molto di più su quello che è successo. Lei voleva sapere tutto quello che avevo visto. E io glielo ho detto. Va bene, grazie comunque. Ci roda il resto della serata, signor. Mi darò un'occhiata più da vicino. C'è un pezzetto di carta infilato sotto la talvecca. Non potevo aspettare ancora. Qualcuno sa tutto. Il professore ti dirà dove vivo. Vieni a casa mia. Spero che troverai questo messaggio. Barbara. Barbara. Il professore. Sì, Marty? Cosa c'è? Sono appena arrivato all'appuntamento, ma Barbara non c'è. Un pittore l'ha vista circa un'ora fa. Deve essersene già andata. Una brutta notizia. Devi vederla oggi. Non abbiamo tempo da perdere. C'è un'altra cosa, professore. Il pittore mi ha detto che sembrava ansiosa. Credo che la stessero seguendo. Se sai qualcosa che io non so, è meglio che me lo dici ora. Marty, tu sai tutto quello che ti posso dire al momento. È di fidarti di me. Com'è possibile che qualcuno la seguisse? Chi poteva sapere che dovevamo vederci? Non ne ho idea. Spero sia un falso allarme. Forse Barbara si è solo fatta prendere dal panico. Credo sia meglio che tu vada direttamente a casa sua. È il solo modo per scoprire cos'è successo. Vive in via Cekovli in 52. Il suo nome completo è Barbara Hanska. Sbrigati. Va bene. Ci vado subito. Ho chiamato un taxi. E sono andato a casa di Barbara. Spero che sia in casa. Se avessi un po' più di tempo mi farei un paio di bicchierini. Chiuso. Non risponde nessuno. Nessuna risposta. Dove potrebbe essere? Proverò un altro campanello per entrare nell'edificio. Speriamo che qualcuno mi apra la porta a quest'ora. Buonasera. Devo entrare in casa ed è chiuso a chiave. Può aprirmi? È chiuso perché è notte. E comunque chi è lei? Mi chiamo Martin Nolan. Sono venuto a trovare la signora Barbara Hanska. Devo parlarle subito. Mi aprirebbe la porta? La signora Hanska vive qui. Ma io non la conosco. Mi dispiace, ma non le posso aprire. Torni quando la signora è in casa. Sì? Buonasera. Vorrei chiederle se mi può aprire la porta. Devo parlare con la signora Barbara Hanska. Ma lo sa che ore sono. Noi chiudiamo a chiave la porta, così la gente non gironzola per il palazzo. Se Barbara la conosce, suoni il suo campanello. Ma lei non risponde a maledizione. Chi è? Pizza a domicilio per il numero 31. Di notte. Mi prende per i fondelli. Voglio dormire, per cui sarà meglio che mi lasci in pace. E comunque qui non c'è nessun appartamento numero 31. Il trucco della pizza a domicilio non ha funzionato. Buonasera, potrebbe aprirmi la porta? Ma perché diavolo ha citofonato a me? È notte, accidenti! Mi dispiace, sono venuto a trovare la signora Hanska. Mi farebbe entrare. Pronto? Maledizione! Cosa c'è? Devo entrare con urgenza nel palazzo per vedere la signora Hanska. Deve vedere la signora Barbara? E perché non suona lei allora? Non risponde, ma credo che sia in casa. Avevamo un appuntamento questa sera, ma non si è presentata. È un po' che provo, dovrebbe essere a casa. Oh, spero proprio che stia bene. Le apro subito. Grazie. Se c'è qualcosa che non va, suoni al numero 12 e me lo dica, va bene? Probabilmente si sarà addormentata, non si preoccupi. Sì, speriamo di sì. Forse ha ragione. Va bene, buonasera. Buonasera. I timori però potrebbero essere giustificati. Ho una brutta sensazione.